A Cosenza un cimitero ordinato e ben curato accoglie i cittadini che da qualche giorno hanno già iniziato il pellegrinaggio verso Colle Mussano per portare un saluto ai loro defunti. L'amministrazione comunale ha attuato una serie di interventi per una migliore percorribilità sia di alcune aree bitumate che dei percorsi pedonali. E' stata anche messa in sicurezza ed è di nuovo accessibile la cappella storica nelle immediate vicinanze dell'ingresso secondario. Tutta l'area cimiteriale è stata poi oggetto di un intervento straordinario di pulizia. Nuovi fiori sono stati messi a dimora nelle aiuole. Infine il grande afflusso di persone ha reso indispensabile come ogni anno la regolamentazione del traffico e della sosta. Il comando della Polizia Municipale ha provveduto a istituire dal 31 ottobre al 2 novembre il senso unico di marcia sul tratto di strada compreso tra lo svincolo del cimitero Cosenza Est della strada statale 107 e l'incrocio della ex strada statale 107. La sosta sarà consentita in apposite aree antistanti il cimitero solo ai veicoli al servizio delle persone con disabilità che espongono correttamente il regolare contrassegno. Si ricorda che il maggiore afflusso è previsto nella giornata della commemorazione dei defunti il 2 novembre in occasione della messa solenne che sarà celebrata dal vescovo Monsignor Francesco Nolè.